Popolo di Youtube sono ancora viva, ci sono, sono tornata Oggi è il 30 maggio, sabato e oggi finalmente ritorniamo ad arrampicata Hanno riaperto le palestre, ci siamo prenotati all'inizio di questa settimana Saremo a massimo 15 nell'area bulle, ci saranno altre persone più lontane E dovremo arrampicare con la mascherina A disposizione due ore e mezza e poi dobbiamo sloggiare Alle 10 dobbiamo essere là, adesso facciamo colazione Devo svegliare Brian, che questa è la parte più complicata come sempre Come colazione ho preparato un pancake, questo pancake qua che vi state guardando E' molto ricottoso perché ci ho messo un vasetto intero di ricotta, quelle piccoline Però insomma abbastanza sostanzioso Farina e albume, un po' di dolcificante, avevo la stevia E poi ovviamente la gente lievitante, il solito bicarbonato e limone Cotto nel padellino come sempre, perfetto E niente, quindi noi ci vediamo E alla prossima Allora, alla fine d'arrampicata, un disastro totale, una fatica, bruciore assurda le mani, facevo fatica a fare quelle più semplici, no, le viola ce la facevo, le bianche, molta fatica. Comunque siamo stati circa due ore e mezza, ma ha arrampicato poco, perché comunque piedi in fiamme, dita in fiamme, muscolatura invece no, quella non mi dava troppo fastidio, non avevo male. Comunque niente, adesso non ho capito bene se vogliono provare ad andare a mangiare fuori da qualche parte o prendere del cibo da portare a casa comunque. Niente, dopo vi faccio vedere, quindi sono un po' gli udi morale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Centini amici, questo video è sponsorizzato dal nostro amico Dual Power, piatti gel, concentrato. Ti sei parlato? Da solo. Fatto.